Ultimo pezzo da Mesh Mellus, noi vi salutiamo, fateci questo regalo, venite tutti i primati! Quindi nessuno è la persona che sia parte sull'estate, ti fanno dire che qualsiasi cosa che crede, forse non è stato mai fatto, credo che sarà solo un secondo, giudere gli occhi e pensare che noi stiamo vivendo quanta giornata è stata! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Ultimo esforzo Non credo che serva soltanto un secondo Ci perelli oggi e pensare che noi Stiamo vivendo qualcosa mistero Non credo che serva soltanto un secondo 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 Un applauso per Teo Grazie un applauso per Steve Non credo che serva soltanto un secondo Grazie a tutti